Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo giovedì continuerà il dominio dell'anticiclone e delle azzorre su tutto il Mediterraneo, come già è ben evidente da queste immagini satellitari che ci mostrano un'Italia praticamente sgombra da nubi. Pertanto si prospetta una giornata stabile, tardo, primaverile praticamente su tutto l'Abruzzo. Avremo cieli sireni ovunque, qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne, quindi sui monti che non daranno luogo a particolari fenomeni. Al più qualche brevissimo tempo orale o scroscio di pioggia pomeridiano sulla maiella, sui settori più interni, ma parliamo di fenomeni abbastanza isolati e non particolarmente intensi. Le temperature sono attese in netto aumento, notate le massime tra i 22 e 26 gradi, minime tra 9 e 15 gradi. I venti saranno deboli a regime di brezza. Grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.